buongiorno a tutti bentrovati su questo mio canale in cui parliamo di orchidee oggi ritorniamo sulle phalaenopsis perché vi volevo far vedere con la fibra di cocco come annaffio così evitiamo di fare danni perché la fibra di cocco assorbe moltissima acqua qualcuno di voi mi ha chiesto se lascio l'acqua sotto nel piattino no non la lascio non lascio perché il piattino serve praticamente per motivi tecnici ovvero sia su questo garellino di metallo se non già avessi il piattino il vasetto traballerebbe cioè non c'è una superficie piana perché sono tutte quante stecche di alluminio se vedete dei ganci commesso è perché lascio che la pianta la phalaenopsis già questo portamento suo caratteristico di piegarsi da un lato questa caratteristica è proprio particolare della specie perché siccome non ama che l'acqua entri nel colletto nella scella delle foglie alla base è una pianta che non ama essere bagnata al centro perché soffre di marciomi quindi l'acqua non deve andare dentro non deve andare nelle foglie alla base insomma praticamente la tipologia di pianta la tipologia di orchidea richiede di stare molto attenti a non far sì che l'acqua vada in punti dove è facile che marcisce e facile che che poi vengono fuori infezioni mortali per la pianta quindi questo suo portamento fa sì che la pianta si spinga tutta da un lato proprio per proteggersi da questa situazione in natura cresce proprio attaccata dagli alberi ma a testa in giù noi quando le mettiamo dritte sono solo per motivi ornamentali per motivi nostri insomma ci piace la pianta dritta ma in realtà in natura tutta storta è tipo questa in un video precedente avevo messo della pillo solo per per bilanciarla un po' stamattina ho deciso di aggiungere dei fissaggi in metallo anche perché questa mattina una caduta e la foglia si è spezzata quindi sono messo subito al lavoro va bene vi volevo far vedere come bagno giusto per rendervi conto di come va fatto quanto tempo va utilizzata l'acqua questa è finita è finita faccio il video proprio per dimostrare la poca acqua che diamo quindi si tratta di pochi secondi si tratta in realtà perché poi la fibra di cocco scende la fibra di cocco l'acqua che noi diamo scende e va a depositarsi sulla base vi faccio vedere un'altra pianta per dimostrarvi quello che sto dicendo se guardate questa ecco questa pure è in fibra di cocco è un fragmipedium però a lungo andare sotto avrete sempre umidità ed è sopra che si asciuga leggermente il substrato ecco perché quando personalmente io consiglio di bagnare spesso e poco perché sennò più acqua date e più la fibra di cocco ne prende vi volevo aggiornare che ci sono getti floreali ecco ne uno qua qui ha deciso la pianta di fare il suo percorso ridando altri getti da un ramo vecchio qualcosa nasce anche qua poi lo vedremo questo non l'ho tagliato ve l'avevo detto nell'altro video qualcosa sta uscendo qua qualcosa sta uscendo qua questa stamattina cadendo mi ha fatto prendere un accidenti vabbè pazienza era una delle più belle foglie che aveva succede anche questo questo è il bello della diretta vi volevo ricordare che se vedete segni sulle foglie non vi allarmate del tutto normale vedete sulle foglie è quasi impossibile che non ci siano segni di qualcosa che alla pianta succede l'importante ecco quando vedete che c'è una bella foglia nuova quando vedete che ci sono steli floreali è tutto ok ecco questo è un altro stelo floreale poi vi dimostrerò nel tempo come la pianta si abitua bene anche nell'altro video ho fatto vedere un po' la quantità di radici l'importante è che rimangono umide in natura dico l'ultimo concetto in natura la falenopsis è abituata a bagnarsi e ad asciugarsi ecco perché quando vedete i video dei coltivatori vi dicono fate asciugare bene tra una bagnatura e l'altra perché in natura questa pianta riceve acqua e ha tempo di asciugare non rimane mai completamente zuppa però nella coltivazione in casa si adatta molto bene allo sfagno si adatta molto bene alla fibra di cocco se vedete coltivatori esteri coltivano tutti il sfagno se guardate i siti americani i maggiori coltivatori coltivano il sfagno perché riesce a passare benissimo l'aria trattiene tantissima umidità è l'unica cosa che dura poco ecco perché io spingo la fibra di cocco perché passa molta aria cioè è ossigenata come fibra ossigenata perché è un mix di cocco tritato se avete visto l'acqua scende già subito lo vedete anche da qua l'acqua sta scendendo quindi succederà sempre che avrete la parte sopra asciutta e sotto ha bisogno di ridare acqua la parte sopra asciutta quindi quando voi vedete tre o quattro giorni che comincia ad asciugare sopra l'acqua sta scendendo sotto basta riequilibrare quello che viene via di umidità così avrete sempre piante sane radici sane ecco se vedete quando bagniamo diventa verde diventa verde la radice quindi quando è verde ha preso acqua a sufficienza quando diventa grigia la radice è asciutta ecco ho voluto fare questo video per dimostrarvi quanta poca acqua va data magari più spesso e avete il vantaggio che sotto non scolerà mai 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 ci sarà acqua sotto sotto vaso anzi sarebbe un segno negativo se ci fosse acqua perché vuol dire che è troppa è veramente troppa forse abbiamo già fatto danni quindi se doveste un consiglio anche pratico se avete dei carrellini come questi che volete mettere altre piante sotto non avrete mai il problema che colando dal sotto vaso o dal vaso fate danni alla pianta sotto spero di aver fatto un video di vostro radimento ci vediamo al prossimo al prossimo aggiornamento grazie di avermi seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti